È possibile usare l'analisi ciclica per fare uno screening delle criptovalute e decidere su quale criptovalute indirizzare la nostra attenzione per i prossimi mesi per cercare di raggiungere alcuni obiettivi economici per fare dei profitti seguendo quello che è il ciclo annuale di queste cripto. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video special praticamente di domenica e tra l'altro estremamente operativo che si basa completamente sull'analisi ciclica di lungo periodo per quanto riguarda le criptovalute con un unico obiettivo centrale, quelle che sono le cripto che possono avere una fase iniziale di un ciclo annuale, quindi la fase up, la fase più forte del ciclo annuale di queste cripto, cavalcarle su eventuali dip e ottenere appunto i nostri obiettivi, quindi profitti. Va bene ragazzi, allora sono molto contento di farvi vedere questo video, un video un po' operativo, un video un po' particolare, un video che aggiorneremo man mano ovviamente nei prossimi mesi anche perché queste cripto ci sono degli disclaimer che poi devo fare insomma per alcuni di voi per farvi capire come gestire, maneggere con cura queste cose. Ma prima di andare avanti ovviamente volevo anche dirvi che tutto questo video si basa sul concetto di analisi ciclica, se qualcuno di voi ancora non conosce bene questi meccanismi vi ricordo che ho inserito quello che è il modulo ciclico stra importante nel corso Basic 2.0, modulo ciclico che completa totalmente quello che in pratica era tutto il percorso. E tra le altre cose ragazzi è in scotto l'ultima giorno proprio oggi, le offerte di primavera finiscono in pratica a mezzanotte, 12 ore 27 minuti per sfruttare questa offerta. Non è soltanto l'analisi ciclica presente nel corso ragazzi ma un po' tutto quello che è il mindset e l'approccio al trading professionale che troverete perché il corso Basic 2 è un corso stra top con recensioni elevatissime. Mi avete dato grandi soddisfazioni, devo essere sincero ma io veramente mi sono spremuto le meningi per fare questo percorso perché ho eliminato tutto quello che erano i concetti inutili del trading impostando una operatività assolutamente così focalizzata in quello che secondo me è molto utile e quello che può darvi effettivamente i risultati. Poi da lì potete anche espandere man mano che avete preso diciamo tutte diciamo avete preso la dimistichezza con questi concetti. Allora solo 12 ore ragazzi vi invito ovviamente a sfruttare queste questa occasione anche perché non ne faremo sicuramente di altre trading on ne fa un paio all'anno. Allora andiamo a vedere come si possono usare questi concetti però da un punto di vista proprio pratico se abbiamo questo tipo di nozioni come andiamo a sfruttarle per impostare un'operatività ad esempio di trading che è lunga che dura un anno scegliendo le cripto giuste quale vantaggio abbiamo dall'analisi ciclica che è proprio questo il concetto. Non per il trading intraday dovete stare davanti al monitor ma in questo caso andremo a sfruttare quelli che sono i cicli annuali quindi un trading che è molto rilassato due operazioni all'anno tre operazioni all'anno molto bello fare questa cosa vi assicuro non è assolutamente semplice ma interessantissimo da fare. Ci sono dei disclaimer che devo assolutamente farvi perché molti di voi altrimenti non capiscono. Punto primo questo è un video dedicato a tutte le persone formate nel trading che sanno quello che stanno facendo che hanno fatto i corsi che hanno letto i libri che sono formati da un po' di tempo perché non è possibile fare cose del genere se non avete la formazione. Chi vi dice il contrario mente spudoratamente oppure semplicemente non lo sa che è la cosa più importante secondo me più che altro non lo sa. Vabbè allora detto questo ragazzi quindi ci tengo a spiegarvi queste cose perché non sono concetti semplici punto numero due tutte le operazioni che di cui parliamo in questo video devono necessariamente essere sempre accompagnate dalla tecnica di stop loss gestione dei rischi money management e position sizing e non vi aspettate che ci sia la bacchetta magica perché non esiste questa cosa. Chi di voi ha questa informazione sta alla perfezione quello che sto dicendo molte cose devono essere cambiate in corso d'opera non c'è nessun altro modo e anche questo è al naturale per gli analisti. Quindi seconda cosa importante discremmere lo stop loss terza cosa queste operazioni andranno tutte seguite con un trailing stop non esiste l'holding alla cieca dello struzzo con la testa sotto la sabbia che compro un progetto perché spero che arrivi a miliardi di dollari. Non è questo il video che stiamo facendo il video sulla speranza ma che lo facciamo un'altra volta ragazzi può funzionare assolutamente ma io preferisco utilizzare quelle che sono le tecniche di trading perché ragazzi il vantaggio dov'è? Il vantaggio è che un bear market come quello che abbiamo subito nel 2022 ve lo rimangiate praticamente in toto con una semplice operazione come ho fatto io da dicembre a dai primi di gennaio neanche adesso adesso sono in gay dove praticamente tutta la fase del bear market è gestita molto bene con gli stop dove non è che abbiamo guadagnato abbiamo perso poco. Questo è il modo di ragionare dei professionisti l'abbiamo recuperata con una sola operazione ragazzi in pratica noi giochiamo alla pari come se bitcoin fosse a 70k già da adesso questo è il vantaggio di chi opera in questo modo poi vabbè si può fare anche l'holding alla cieca no? Allora poi altra cosa fondamentale che proprio ci tengo a dire tutta questa struttura che andremo a vedere avrà degli stop di natura temporale cioè basati solo sull'analisi ciclica quindi anche se le operazioni andranno bene a un certo punto noi faremo take profit grazie all'analisi ciclica i concetti che proprio l'analisi ciclica ci dirà. Quarto punto o quinto adesso ho perso il conto questa operatività la seguirò anche in academy cercando un po' di impostare il discorso è una cosa nuova è una cosa che mi sono prefissato di fare da una settimana quindi è una cosa carina infatti l'avevo accennato anche in questo video ed è molto bella da seguire quindi poi porterò i resoconti anche su youtube ragazzi quindi chi è in academy che ha fatti i corsi miei ed è in academy entra gratuitamente in academy perché nel corso ci sono tre mesi di academy gratuiti seguirà anche questo progetto proprio in corso d'opera e vedremo un po' quali i risultati di solito ogni tanto qualcosa di carino esce fuori e anche a livello economico insomma ci sarà una grande differenza perché se riusciamo a procedere su questo percorso chiaramente ragazzi i risvolti economici non sono sono notevoli però andrà seguito anche lì perché in academy più semplici abbiamo una serie di trader anche estremamente preparate e analisti anche molto preparati quindi sarà anche più facile eseguire questi progetti nonché abbiamo inserito anche l'analisi dei progetti cripto nella loro struttura e non solo da un punto di vista di analisi tecnica e questo ci faciliterà anche di più qualora dovessero esserci dei giochini strani allora detto questo passiamo alle cripto che vediamo oggi e senza farvi spoilerone ve le dico direttamente anzi facendo i spoilerone sono hanno bitcoin tron ve le sono segnate e phantom stellar e adacardano quindi iniziate a non smussare perché a noi in questo caso che facciamo investimenti non interessa assolutamente un picco secco del tifo per una squadra di calcio ovviamente bitcoin allora tutta la struttura si basa su questi concetti punto primo la struttura dell'analisi ciclica annuale il ciclo annuale di queste cripto punto secondo trovare un punto di ingresso su queste cripto a favore del ciclo annuale vi faccio vedere le due fasi così come ho spiegato nel modulo del corso punto terzo gestire l'operazione quando e se quelle operazioni entreranno a long sul mercato punto quarto non usiamo i short in questa fase ma questo tipo di strategia si può accompagnare anche alla fase successiva del ciclo annuale e quindi utilizzare anche lo short selling come struttura di ulteriore profitto quindi il boost no dare il x2 magari è quello che andiamo a fare allora impostiamoci immediatamente in questa logica punto primo analisi ciclica dovete conoscere l'analisi ciclica ragazzi individuare quello che è il ciclo annuale di una cripto in questo caso io vi ho inserito quello che è la struttura del ciclo annuale di bitcoin che è iniziato il 21 di novembre settimana ragazzi non andiamo a guardare time frame più brevi perché qua stiamo guardando i cicli annuali questa è la struttura di un probabile ciclo annuale la durata di un probabile ciclo annuale di bitcoin un po' più breve dei precedenti che erano veramente molto lunghi poi magari può fare le famose lingue di buyer alla fine quindi allungare un po' il ciclo ma non è rilevantissimo una volta che abbiamo strutturato la struttura ciclica dell'annuale della criptovaluta andiamo a vedere la fase dell'annuale come si definisce una fase ciclica la prima parte di una fase ciclica è la fase più forte questo lo spiego nel modulo ragazzi in maniera molto approfondita il modulo che appunto ho inserito nel corso perché la fase iniziale di un mercato ciclicamente parlando è quella dove c'è più enfasi verso il rialzo attenzione che non è detto che la seconda fase sia debole sempre non è così ragazzi poi dipende dalla struttura ciclica che si indica cioè dal fatto che il ciclo abbia una pendenza positiva o negativa ve lo faccio vedere sul grafico se questo è un ciclo neutro ha una pendenza così va bene fatta in questo modo se il ciclo invece sarà rialzista la pendenza sarà in questo modo qui va bene se invece è ribassista come per esempio l'ultimo bear market guardiamo direttamente nell'ultimo bear market la struttura sarà in questo modo va bene questa è la questione ciclica quindi noi abbiamo quasi in tutte e tre le situazioni la prima parte che ha una struttura di forza mentre la seconda parte dipende dalla pendenza del ciclo se il ciclo è long quindi è rialzista avrà una pendenza positiva la seconda parte ma è rischiosa quindi noi che facciamo ci posizioniamo a favore del ciclo nella prima parte andando a tentare degli ingressi in deep su queste cripto che seguono appunto l'andamento ciclico annuale qualora poi nella seconda parte dell'annuale il mercato continui a tirare si possono optare altre strategie per starci ancora sopra no quindi non uscire e stare e continuare diciamo a seguire magari potrebbe fare una cosa del genere guardate questo è un ciclo annuale annuale iper rialzista di bitcoin e guardate un po' che ha combinato qui quindi prima fase tutta rialzo ma seconda iper rialzo insomma come la prima allora detto questo andiamo a calcolarci i giorni se un ciclo più o meno lo facciamo coincidere con 400 è qualcosa io direi che stare intorno ai 220 giorni un po' per starci anche un po' lontani indicherebbe una fase adeguata quindi qui andiamo a colorarci una fase long fatta in questo modo quindi in questa parte temporale ragazzi vi ricordo che ovviamente chi di voi non è non ha dimistichezza con questi concetti è perché appunto non conosce l'analisi ciclica quindi l'analisi ciclica si basa sulla fase temporale dei mercati e non sui prezzi ok allora questa sarà la nostra fase temporale long cioè una fase in cui pratica ragazzi abbiamo più probabilità che il mercato tenda a salire cioè a fare un po' degli up e ad avere forza nei momenti di cesa in effetti BTC io l'ho messo perché BTC è BTC però la sua fase app l'ha già assolutamente sviluppata tant'è vero che state vedendo manca ancora poco per questa fase dove potrebbe arrivare Bitcoin in questo discorso all'interno di questa fase ora su Bitcoin siamo tutti long probabilmente ragazzi chi di voi ha seguito il mio video anche sulla famoso buy the dip ha accumulato o in questa zona o in questa zona qui quindi intorno ai 21 più o meno Bitcoin e chi per esempio ha fatto questo discorso qui è andato anche in hold vi avevo segnato proprio i 21 e 3 come zona limite di chi è entrato chi doveva entrare long insomma per fare l'holding cosiddetto a favore ciclico si basava proprio su questi concetti che vi sto dicendo successivamente da qui in poi andiamo in pratica a seguire quella che è una struttura di target dovuta al trailing stop come vi dicevo lo stop loss che in questo momento è posizionato al di sotto del minimo dello swing del 6 marzo quindi sotto i 19 e poi andiamo a livello temporale già in un orizzonte temporale tra maggio e giugno in questa zona sarebbe lecito iniziare a valutare l'uscita da queste posizioni se siete già entrati su Bitcoin è difficile che ci sarà un altro buy the dip ve l'ho presa come esempio appunto per farvi questi ragionamenti ma se dovesse farlo è il buy the dip sulla media mobile a 52 settimane questa rosa che vedete quindi se lo fa anche qui un tentativo di ingresso su questo buy the dip sarebbe da utilizzare o anche a chiusura del mensile che dovrebbe arrivare tra poco ne parliamo domani va bene detto questo quindi il tentativo di ingresso long su Bitcoin deve durare fino a maggio giugno e a quel punto dopo questa fase bisognerà valutare quindi questo è il posizionamento attraverso il concetto ciclico andiamo a vedere la seconda criptovaluta che è TRX ragazzi TRX ha un ciclo vedete che è iniziato anche lui sul discorso di novembre quindi gli andiamo a impostare una fase è più debole di Bitcoin solo il superamento di questa fase qui dà il là a questa strategia che stiamo impostando indicandola in pratica come una cripto che può fare un rialzo consistente 0.07475 insomma se volete approssimare però perché ve l'ho inserita? perché ragazzi queste sono cripto che sono in fase ciclica ancora dell'annuale appena iniziato e possono avere un buy a differenza di Bitcoin che come abbiamo visto un po' i giochi sono fatti possono avere un buy un pochettino più accurato cioè più insomma a prezzi più accettabili per chi ancora magari non è entrato ovviamente dov'è la problematica di queste cripto? l'enorme volatilità che bisognerà gestire perché da qui anche un ingresso uno stop adeguato è al 20% più in basso ragazzi oppure addirittura al minimo di questa fase quindi qui come vi ripeto come da disclaimer numero 1 o siete formati per fare queste cose oppure è difficile da seguire però ci sono dei modi appunto che è interessante di andare a fare magari dei buy the dip anche utilizzando time frame più brevi come spiego sempre nel corso ragazzi dove parlo dell'utilizzo del doppio time frame per darvi una probabilità maggiore di stare su una trend e riuscire a gestirlo meglio allora questa per esempio è una zona di minimo quindi i prezzi intorno a questa zona sono più apportabili ragazzi se fanno cose del genere perché? perché lo stop è più vicino quindi tutto qui si tratta appunto di minimizzare allora valutiamo anche Tron con il prezzo di ingresso non ho ingressi io su Tron lo valuterò appunto in questo progetto se dovesse darmi un ingresso corretto in termini di rischio rendimento allora questo può essere interessante perché ancora non ha fatto la parte app ed è all'inizio vedete di questa fase ciclica annuale quindi Tron entra in graduatoria allora andiamo a vedere Phantom che invece ho già tradato ampiamente in tutte queste fasi perché mi piaceva abbastanza però poi ho detto vabbè andiamo a farci un video allora Phantom ha un nuovo ciclo annuale che è iniziato un po' più tardi degli... no sempre novembre scusate non è Phantom ma sono le altre due che sono ad soprattutto iniziati a dicembre allora questa zona qui vedete in questa fase io potrei indicarla ancora una volta come una fase di ciclo nella fase di bullo annuale nella fase di bulla allora perché questa cosa qui ragazzi adesso mettiamo anche la struttura vediamolo qua oh ci sono riuscito allora ancora una volta è una fase di bulla attenzione a Phantom perché è delicata anche questa però qui abbiamo un rischio rendimento più accettabile in quanto ha fatto il massimo in questa parte qui e sta andando a chiudere tutte queste fasi ora ciclicamente ragazzi una possibile chiusura arriverà proprio a maggio il famoso concetto del minimo di maggio che magari in questo caso non è assoluto ma relativo e ci potrebbe stare proprio tra il mese di fine aprile insomma una cosa del genere lì potremmo valutare un eventuale ingresso ho fatto un po' più lungo lì potremmo valutare un eventuale ingresso proprio in questa zona qui prima dell'ultima fase di up in ogni caso questo minimo per esempio su Phantom che è un minimo a 0.3 può essere valutato come un eventuale minimo da tenere d'occhio se il mercato lo sfonda in maniera consistente riportandosi sotto la media blu a quel punto le operazioni si annullano altrimenti se regge questa fase si potrebbe andare anche a tentare un eventuale buy su questa cripto a livello temporale siamo sempre giugno-luglio questa fase qua vedete fine giugno come fase di stop solo ed esclusivamente il superamento di questi massimi a 0.7 sanciscono un ciclo in uptrend poi per Phantom la fase di rialzo è avvenuta il breakout di questo swing è avvenuto il test di questo swing è un buy è un buyback di questa zona e a quel punto ragazzi adesso il mercato deve continuare questa fase quindi potrebbe andare a breakare qui attenzione perché parliamo quasi di un 100% quasi un 100% solo con un'operazione quindi vi ripeto queste sono operazioni da mangiare con cura assorba gli addetti ai lavori se non sapete utilizzare stop trailing eccetera no ragazzi formatevi prima non si possono fare assolutamente queste operazioni senza avere queste conoscenze di base allora però il superamento di qui tra l'altro lancia anche poi il tentativo di fare un pullback anche in questa zona qui va bene allora detto questo Phantom entra quindi tentativo di acquisto non ci sono operazioni longa in questo momento su Phantom sono ancora in attesa ma sarà gestita anche Phantom seguendo queste logiche che vi sto questo dicendo vediamo se riusciamo a trovare un ingresso poi se riesco a trovarli magari vi aggiorno appunto sul canale allora andiamo a vedere ovviamente in Academy saranno in tempo reale chiaramente ragazzi quindi possono essere anche seguite queste operazioni per chi poi è in Academy però su YouTube è difficile allora come faccio a darvi l'operatività a parte che non è neanche se non sbaglio legal friendly allora detto questo poi abbiamo una questione legata a Stellar Stellar interessantissima perché? perché abbiamo una cripto che ha iniziato un ciclo a dicembre così come anche ADA già ve lo anticipo a differenza di quelle che abbiamo visto finora queste hanno cicli annuali iniziati da poco quindi devono ancora dare in pratica ragazzi non hanno ancora sviluppato totalmente la propria fase ciclica questo è interessante sono più deboli quindi più pericolose ma possono dare più soddisfazione perché siamo ancora molto lontani dalla fase di strutturazione ciclica vedete quanto spazio c'è perché qui abbiamo una metà del ciclo che va ad agosto quindi abbiamo in pratica un mese in più rispetto alle altre un mese e un mese e mezzo in più rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente tra le altre cose Stellar è sulla media dell'annuale proprio a 52 settimane se riuscisse diciamo a breccare questa media potrebbe essere indicativo della nuova fase in maniera anche definitiva un po' come è fatto in questa zona vedete quindi tentenna poi brecca fa un pullback e via con lì ovviamente il nostro punto di ingresso dovrebbe essere il pullback poi di questa struttura quindi in questo momento è molto debole perciò i punti di ingresso potrebbero essere o al breakout e poi successivo pullback oppure in questa zona dove ha già fatto un'area di minimo e quindi ho una zona da attendere appunto nel futuro se fa quel break oppure lo 0,9 che è questa fascia fascia di prezzo che ci porta poi un livello di stop accettabile 0,065 quindi è accettabile in termini di rischio rendimento mentre in questa fase siamo un po' in pump e quindi non conviene anche se ci sono delle metodologie per entrare sui mercati così facendo scaling out si chiama così andatela ad approfondire ne parliamo come sempre ampiamente nel corso nel academy eccetera su scaling out però lo trovate anche in online che cos'è cioè dividere le vostre posizioni di ingresso con una specie di mini pack però non temporale in base appunto alla forza del mercato qui il mercato forte ne entro una poi il mercato mi fa il pullback ne entro un'altra il mercato mi riprende una nuovo trend di forza entro con l'altra opzione solitamente lo scaling out è 3-5 ingressi massimo quindi si differenzia un po' dalla pack che invece è infinito qui abbiamo una fase del genere quindi molto buona anche Stellar che entra tra queste cripto da andare a seguire andiamo a vedere l'ultima ADA anche ADA ragazzi ha iniziato un nuovo ciclo a dicembre quindi come Stellar è in una fase fresca diciamo così è molto debole rispetto alle altre e quindi non ha fatto un grande up ma attenzione perché le cripto non bisogna mai sottovalutarle ci sono dei livelli molto interessanti per ADA sono 0.48 il superamento della media mobile rosa che vedete potrebbe indicare poi una fase nuova di bull attenzione a sottovalutarle parlare di progetti e roba del genere perché sappiamo come il principio riflessivo e quindi la parte emotiva nelle criptovalute sia molto importante come criptovalute comunque con progetti alla fine con capitalizzazione più che progetti nel caso di ADA progetti in stand by capitalizzazione molto forte però e team comunque importanti dietro allora possono dare comunque anche soddisfazione in questa fase questa zona di rimbalzo del mercato è una zona di riflessione ma ancora questa cripto non ha dato praticamente nessun segnale up però questo ci consente anche di fare degli ingressi che sono molto insomma rischio rendimento molto semplici perché già entrare in questa zona vi espone di meno al rischio di stop che ovviamente da qui a qui più o meno sarà un 20-30% certo che se fossimo qui sarebbe il 51% va bene ragazzi quindi valutare sempre con grande cura questi ingressi avete visto comunque che non esiste la possibilità di impostare uno stop loss al 3% sulle criptovalute ma è follia ragazzi come spiego appunto sempre nel modo del corso lo stop è uno è interfinito dal mercato non da voi cioè non è che potete inventarvi voi qual è il vostro stop quello lo potete fare solo e esclusivamente con le operazioni intraday o di 1-2 giorni massimo nelle operazioni lunghe lo stop lo cide al mercato quindi o voi ci state oppure non è il caso di tradare perché altrimenti vi succede che vi prendono lo stop e poi il mercato parte quante volte vi è successa una cosa del genere perché succede una cosa del genere appunto per questo motivo qua perché impostate uno stop a vostra discrezione quando non si può fare e anche questo è un problema di mindset che spesso e volentieri non viene spiegato da nessuna parte perché una cosa potete tradare in traday due giorni una cosa è decidere di fare operazioni lunghe nelle operazioni lunghe dovete accettare lo stop del mercato quindi voi puoi decidere se lo stop è adeguato alla mia posizione investite di meno semplicemente oppure se proprio non fa per voi per la vostra fase emotiva ma è inutile che imbrogliate e fate finta vabbè lo metto più piccolo ma che lo mettete a fare poi ve lo prende il mercato e se ne parte insomma no quindi dovete stare all'oscillazione alla valutabilità alla natura del mercato allora questo è il grafico di ADA anche ADA sarà utilizzata questa zona è una zona interessante ma il primo livello è anche un po' più basso che è questa fase qui 0.41 che è appunto la fase che la blocca dopodiché arriverà a questa se lo brecca arriva a 0.48 si riferma quindi questo già ve lo dico questa è una zona di oscillazione solo ed esclusivamente superamenti di questa fascia 0.63 poi danno proprio il là ad ADA di fare appunto un altro tipo di trend quindi avere più spazio una cosa del genere interessante anche ADA abbiamo scoperto le carte tutte quelle che sono le cripto mi raccomando se non siete formati non usate niente seguite fate i terraspettatori magari andate a vedere iniziate a interessare su queste cose io vi rilascio le offerte di primavera che scadono tra pochissime ore ragazzi il coupon del 10% è soprattutto qui il modulo della gestione dell'ecrito e soprattutto il modulo sulla analisi ciclica vediamo che succede con queste cripto le seguiamo facciamo un nuovo progetto è nuovo ragazzi vi sto avvisando anche voi non lo sanno neanche in academy e vediamo un po' che succede tra cosa nuova ogni tanto anche per cambiare per seguire appunto un'operatività farò dei report magari con tutte queste operatività vediamo dove andiamo arrivare vediamo di unire anche le forze in academy con gli altri analisti che sono stra bravi ciao a tutti buona domenica noi ci vediamo domani ciao